Salve ragazzi, benvenuti a questo corso di studio di registrazione e teletrasporto. Oggi teletrasporteremo Jacopo, il chitarrista, da quella sedia a quella cabina, tramite questo controllo. S'friends. Vedi, un cursore, però bisogna stare molto attenti. Quindi io azionerò questo tasto, insieme a una combinazione segreta numerica. Qui è tutto zero, io ho una combinazione segreta che permetterà al teletrasporto di diventare effettivo. E teletrasporterò Jacopo, ok. Il teletrasporto sta iniziando. Ecco il teletrasporto avvenuto. Come potete vedere Jacopo è in perfetta forma. Ok, adesso teletrasporterò me stesso. Commandos France. Ho scaricato un software di teletrasporto portatile, praticamente. Lo puoi installare su qualunque telefono. Ha una combinazione segreta diversa da quella di prima. Io mi posso teletrasportare in continuazione. Hai il tuo teletrasporto di fiducia. Vabbè, ora vi dimostrerò. Adesso mi teletrasporterò in vari punti del Parsifal. Dimmi che cosa vuoi essere trasportato. Pronti? Via. Ha un po' che non si vede. Cosa è qui dentro? Forse è la batteria. No, non c'è. Ah! C'è un po' che cazzo sei. Ha lasciato il computer qua. Vieni a vedere. Qua. Merda. Mi sono trasferito dentro il mio computer. Esperimento. 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 L'idea geniale. C'è un'idea geniale. L'idea geniale. Ok, riascoltiamo. Inventiamo il teletrasporto. Tu devi stare fermo nello stesso punto. Riprendiamo prima senza di te. Io poi vado lì e faccio. E poi tu ti sedi e appari. No, mi fiego. Il teletrasporto. Esperimento numero uno. Oggi teletrasporteremo Jacopo da quella sedia alla cabina. Dove cazzo vai? Che cazzo vai? Mi capisce una segna, è un prognoso E vale, vale, vale Teletrasporto seconda Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma sei fuori come un culo Devi stare lì No, era meglio che ora ci siamo era lì No, ma prima devi riprendere la cosa vuota, no? È logico L'hai già ripresa? No, non l'hai ripresa No, non l'hai ripresa Ah, ok, ok Che cazzo Teletrasporto terza Chuck Sfranz Non è come quello di prima, è cambiato Teletrasporto quattro